Benvenuti a Livon de Paul, oggi vi mostrerò il tutorial di una figura a cui sono particolarmente affezionata perché è stata una di quelle prime figure che ho imparato appena avevo iniziato a fare Paul Dance, è una figura semplice ma a parer mio di grande effetto, The Knee Hold. Partiamo inizialmente da terra, agganciamo la gamba più forte al palo, più in alto possibile, mi sollevo e porto su l'altra gamba in modo da agganciarmi con il piede, una volta che ho trovato l'aggancio per controllare il mio peso stacco il braccio più in basso per sorreggermi al pavimento, nel frattempo cerco di posizionare la parte bassa del ginocchio al palo e importantissimo spingo le anche in fuori, una volta trovato l'equilibrio stacco la mano dal palo. Proviamo in piedi, stessa cosa, aggancio la gamba forte al palo più in alto possibile, mi sollevo, aggancio il piede, appoggio il ginocchio inferiore al palo e spingo fuori le anche. Solo se sento l'equilibrio provo a staccare il braccio. Per uscire in modo carino sgancio le gambe e mi ritrovo in pull up sit. Proviamo in spin e da una salita, quindi inversione, e in questo momento mi aiuto con il braccio inferiore a agganciarmi con il piede e a trovare la posizione del ginocchio. Spingo le anche in fuori e solo successivamente stacco il braccio superiore. Mi raccomando staccate il braccio superiore solo se sentite l'equilibrio. Per uscire in modo carino riprendo il palo, sgancio le gambe e mi ritrovo in pull up sit. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e al prossimo video!